Ha scelto la Calabria, la Messia Terme e l'USIC, l'Unione Sindacale Italiana dei Carabinieri, per la sua prima uscita ufficiale. Il nuovo sindacato si è riunito presso la sede di Union Camere per discutere alcuni aspetti cruciali della vita operativa dei carabinieri che da secoli difendono il Paese e garantiscono la sicurezza dei cittadini italiani. Nella riunione si è discusso anche del problema legato al Covid e spesso ha visto i carabinieri combattere praticamente a mani nude contro la pandemia. Questo è il primo convegno che organizziamo a livello nazionale, lo abbiamo organizzato volutamente qui in Calabria perché riteniamo che partire dalla Calabria per noi sia un passo importante e fondamentale. Il convegno riguarderà alcuni aspetti che sono propri della nostra vita lavorativa, quali contratto di lavoro, forme pensionistiche collegate agli ultimi stanziamenti che ha fatto il Governo per venire incontro alle nostre esigenze, vittime del dovere collegate al Covid. Come per il personale medico, così anche per il personale delle forze di polizia e delle forze armate, il Covid ha segnato un passaggio importante della loro vita. Quindi noi abbiamo ottenuto che come arma dei carabinieri e quindi come forze armate, ma principalmente il lavoro dell'arma dei carabinieri, abbiamo ottenuto che il Covid fosse riconosciuto laddove ce ne sono i presupposti, se contratto in servizio, fosse riconosciuto anche la vittima del dovere. Questo perché? Semplicemente perché noi non sappiamo, anche da quello che dicono illustri esperti, quali saranno nel futuro, diciamo così, le conseguenze di questa pandemia a livello di salute delle persone che l'hanno contratta. Ad accogliere i Lusic in Calabria, alla sua prima uscita nazionale, il segretario regionale della UIL, Santo Biondo. La pubblica amministrazione è tornata a essere centrale nel rilancio del Paese. Sul piano nazionale, lo stiamo dicendo da diverso tempo, per poter garantire l'efficienza della macchina pubblica sembrano uomini, mezzi ed investimenti e a maggior ragione una regione come la nostra, come la Calabria. Abbiamo visto anche in queste ore la nomina del subcommissario alla Sanità, che tra le altre cose è un alto ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, che ha avuto ruolo e responsabilità anche in altri settori della sanità in Campania. Quindi ci serve implementare questa forza all'interno della pubblica amministrazione per rilanciare il Paese in tutti i settori, a partire ovviamente, per quanto riguarda la nostra regione, la sanità.